5, 4, 3, 2, 1, 6! C'è solo l'imbarazzo della scelta a Fano per come salutare l'anno nuovo. Una serata, quella del 31 dicembre, ricca di iniziative tutte ugualmente attraenti e tali da soddisfare tutti i gusti. Come sempre sarà a Piazza 20 Settembre a fare perno della serata, in cui avverrà il countdown per l'arrivo del nuovo anno. Una serata piena di musica, di brio e di divertimento. Ci sarà musica anche all'interno del Teatro della Fortuna. È uno spettacolo tutto da ridere al Politeama, dove verrà rappresentata la novità del San Costanzo Show. Ha anticipato il programma della manifestazione l'assessore agli eventi Etienne Lucarelli, insieme alla presidente della Fondazione Teatro, Katia Amati, Davide Bertulli del San Costanzo Show e Lucia Lucarelli della Proloco. Lui è sempre stato a Fano un capodanno scintillante, perché sappiamo che sono tante le persone che magari anche scelgono Fano come vacanza, ma anche tanti cittadini che magari quella sera escono, scelgono i ristoranti del centro storico e della città e poi alle 11 arrivano in piazza. E appunto in piazza ci attende un concerto anche quest'anno fantastico. Loro sono già stati a Fano circa quattro anni fa, sono i cantautori clandestini. Scuola di Riccardo Cocciante, che li ha preparati per il cantautorato italiano. Insomma, con loro sarà veramente festa, perché hanno anche veramente strumenti che permettono questo, come ad esempio un violino elettronico fantastico, quindi sono tutti da ascoltare. Faranno musica che ci fa passare dei bei momenti. Inizierà alle ore 11, ovviamente alle 11.50 precise inizierà, ci prepareremo per il brindisi, ci sarà il countdown che ci porterà alla mezzanotte e poi andremo avanti ad oltranza per festeggiare l'arrivo del 2024. Ma non sarà soltanto la piazza 20 settembre a fare festa, ci sarà il teatro, che ci sarà un magnifico spettacolo all'interno del teatro come sempre stato in questi anni, così come anche al teatro Politeama, gli amici del San Costanzo Show, insomma, ci faranno divertire, quindi sarà la simpatia ad essere in quel luogo e veramente ce ne sarà per tutti i gusti. Per i ragazzi c'è sempre la pista del ghiaccio che tutta la sera sarà aperta, quindi tante occasioni per vivere il Capodanno nella città di Fano. Insomma, ne approfitto, visto che siamo vicini al Natale, per augurare un buon Natale a tutti. Grazie.